Senz'altro era stato tenuto sotto controllo e quando è salito in auto qualcuno ha spalancato la portiera e ha raffato sotto il naso lo zaino con dentro 30.000 euro d'oro. Brutta avventura per un rappresentante orafo 55enne bassanese che nel primo pomeriggio di ieri aveva raggiunto un'azienda del settore in viazzameno a Favicenza Est per effettuare uno scambio merci, un chilo di metallo prezioso lavorato in cambio di oro fino. Tornata la sua BMW è stato derubato in una manciata di secondi, il ladro è scappato su una Fiat Stiro, il 55enne si è messo alle calcagna ma l'inseguimento è durato poco perché il malvivente gli aveva tagliato uno pneumatico. Allertato il 113 si stanno visionando le immagini della videosorveglianza.